Le segreterie territoriali del settore di CGL, CISL, Willa e FIAS, tutela dei lavoratori dell'ASP 1 della provincia di Chieti, hanno proclamato lo stato di agitazione. Le ragioni della protesta sono state illustrate oggi in conferenza stampa. L'ASP numero 1 della provincia di Chieti ha ricevuto un atto di pignoramento presso la tesoreria dell'ente a causa della forte esposizione debitoria. La situazione potrebbe causare una paralisi di tutte le attività, compresa l'assistenza agli utenti e alla fornitura dei beni di prima necessità. Una prima conseguenza è stata la mancata erogazione degli stipendi del mese di gennaio 2024. Il 31 gennaio si è svolta un'assemblea con tutti i lavoratori e nell'occasione sono state evidenziate le preoccupazioni per il futuro e la latitanza degli organi regionali nel trovare soluzioni e le problematiche economiche e finanziarie che affliggono le ASP della regione Abruzzo. Sono pronti ad andare dal prefetto e anche a un eventuale sciopero, Gabriele Pasqualone della FIERS. È una situazione, sì, benissimo, una situazione drammatica perché il 27 di questo mese i lavoratori non hanno preso stipendio. Più quelle dell'indotto sarebbe che le cooperative che lavorano qui dentro hanno in appalto alcuni servizi, non sono state pagate le fatture e non hanno potuto pagare gli stipendi dei lavoratori. È una situazione drammatica perché si parla, si sente, pare, circa 5 milioni di euro. C'è stato addirittura un'ingiunzione di 3 milioni di euro in banca da parte del giudice nei confronti sempre di questo istituto. È una situazione veramente drammatica. Allora noi abbiamo fatto un stato d'agitazione, risolve il problema, bisogna intervenire drasticamente per coprire il debito oppure fare delle alternative e dare in gestione l'istituto, trasferendo, secondo noi, la proposta FIALS è di trasferire i lavoratori a tempi indeterminati che hanno superato un regolare concorso questo ente, trasferiti presso gli altri enti che potrebbe essere l'ASLI chiede, oppure l'ASLI chiede prendere esattamente in gestione tutto l'istituto perché in queste condizioni non si riesce ad andare avanti. La preoccupazione dei sindacati è una possibile chiusura della struttura e le ripercussioni ci saranno anche per gli anziani e diversamente abili accolti. Circa un centinaio lente, prosegue Pasqualone, non è in grado infatti di acquistare nemmeno le piccole cose. Il presidente dell'ASP1, Concezio Tilli, afferma... È successo un fatto scatenante che è tutto nuovo per questa ASP, che la protezione sull'impignorabilità di una somma minima necessaria per il funzionamento ordinaria di questa azienda, servizi alla persona, sembrerebbe essere venuta meno. E siamo in attesa, in un giudizio del giudice, se questa protezione può valere. Se questa protezione andrà a valere, noi speriamo di uscire fuori da questa criticità, continuare a garantire gli stipendi al personale e principalmente l'assistenza sanitaria alle persone assistite.